E quando me ne andavo dovevo arrivare per le otto, all'ultimo minuto veloce mi trovavo a metà corso. Salivo quelle scale in fretta con in braccio la cartella, per esser dentro in tempo al suono della prima campanella. In aula i compagni, già tutti pronti e attenti ai loro banchi, sembravano belli freschi, non davano l'idea di essere stanchi. Eppure buona parte veniva giù in corriera dai paesi, perciò si alzava presto non certo come me che stavo agli esi. Anch'io prendevo posto e intanto controllavo sull'orario, ci stava una materia che avrei spazzato via dal calendario. Fortuna all'ultima ora, Don Mario ci portava a religione, un'ora di relax, non c'era l'ansia di interrogazione. Ancora due parole con il compagno che sedeva accanto, hai fatto la versione, io no perché non ci ho capito tanto. Entrava il professore, qualcuno riconosco era Gagliardo, chiudeva quella porta e lì cadeva l'ultimo baluardo. E se la matematica sappiamo non è certo un'opinione, quando iniziava orlando senz'altro c'era in più qualche emozione. Se andava alla lavagna, sapevi che spiegava tutto il tempo, e ci condiva sempre quell'ironia con quello strano accento. Enrico Ciuffolotti teneva nel cassetto una passione, i suoi promessi sposi dei veri saggi di recitazione. Un grande professore, nessuno può negare la sua bravura, nemmeno quando Aiesi fu sindaco e assessore alla cultura. Poi c'era la triolo, sembrava molto buona in apparenza, se non la secondavi difficile strapparla a sufficienza. Viveva per la scuola, per questo la credevi casta e pia, ma so che ci godeva ad appoggiarti un tre in filosofia. Quando la gatti entrava, a volte mi sembrava un po' aggressiva, mostrava indifferenza e atteggiamento scaltro da grandiva. Se aveva il mal di testa, però scendeva a patti con la classe, bastava far silenzio perché in quell'ora non interrogasse. Del professor Carotti non riesco a ricordare abbastanza, forse perché la lingua nel tempo aveva perso un po' importanza. Ricordo invece il fumo, le sigarette sempre ben in vista, quando era sotto scorta, passava per i banchi a far provvista. Per l'ora di disegno, Bugatti, poi Tamburi e poi Colosso, quest'ultimo insegnante all'improvviso ci ha piovuto addosso. Come non ricordare i tanti disegnini riciclati, degli anni precedenti e presi dal mercato degli usati. Da Diana Piera Lisi, lo ammetto, eravamo un po' quattratti. Era un piacere accoglierla, in specie al modo se dopo la gatti. Ma quel sorriso dolce o quella cortesia o discrezione, non era un passaporto se non sapevi bene la lezione. Tra gli altri professori, alcuni del biennio in primo piano, c'era la Micciarelli, latino, storia, geografia e italiana. Branchesi, matematica, sistemi, teoremi ed equazioni, istoria, l'adegano, la civiltà dei popoli e nazioni. E suona la campana, e suona perché ormai è giunta l'ora, usciamo dalla scuola e uscire finalmente ci rincuora. E questo fino a quando, un giorno ma neanche tanto dopo, ci dissero maturi, l'avete ormai raggiunto il vostro scopo. E volano i ricordi, e volano i progetti e la carriera, ognuno la sua strada, ognuno a indirizzarla a sua maniera. Qualcuno ha realizzato qualche altro un po' meno nella vita, ma tutti hanno imparato e san come giocare la partita.